Le preparazioni di gastroscopia e colonoscopia sono diverse. Per quello che riguarda la gastroscopia è molto semplice, basta il digiuno della sera precedente. Per quello che riguarda la colonoscopia il paziente deve assumere un preparato che solitamente è chiaramente un lassativo e serve per pulire adeguatamente il colon in modo tale da poter esplorare con massima precisione tutta la mucosa. Il preparato viene assunto in due tempi, se l'esame viene fatto la mattina viene assunto a una parte la sera precedente e in parte la mattina presto, se l'esame viene svolto il pomeriggio il preparato può essere preso tutta la mattina. È fondamentale anche un accorgimento dietetico, ridurre l'apporto di fibre nei 5 giorni precedenti e con questo chiaramente noi riusciamo ad ottenere il massimo della pulizia nel paziente.